Amici di Vini in Vino, ciao! Siamo sempre qui con i nostri sommegli Filippo e Cristian. Buongiorno, ciao a tutti! Oggi assaggeremo un vino particolare dai piacevoli contrasti che poi scoprirete. Oggi abbiamo per voi un vermentino di Gallura, quindi siamo al nord, della Sardegna. E' un vino che ci ha intrigato molto perché abbiamo discusso tanto e lo faremo anche con voi. Vermentino a 100%, senza averci le mani addosso. No, l'abbiamo chiuso con un piccolo di vino. E diciamo, vermentino a 100%, quindi il tiglio bianco tipico della zona, siamo in Cina Berchita, un vermentino decisamente interessante, è una cantina abbastanza grande con un giugampino, poi come rapporto a qualità prezzo? Un 2012 a 13 gradi. Passiamo alla vista, direi giallo dorato, qualche riflessino verdolino glielo metterei o un bel giallo dorato. Io sono già passato al naso, dove sei andato avanti? I contrasti di cui parlavate? I contrasti qui c'è della frutta sicuramente, arriveranno, però si frutta. Della frutta gialla cosa sentite di parche i brani? Beh, io direi della papaia esotico, senza meno, io direi mango anche. È una papaia comunque matura, mi viene in mente luglio, in Sardegna, caldo e un po' lo vediamo anche nel vino. Il maturo contro il frutto non maturo, cosa cambia? Cambia l'intensità innanzitutto, e comunque quella nota, la fonte di matura è quasi, sta quasi per passare di là con la maturazione, quindi in quei limbo lì che comunque sono leggermente più grande, comunque l'intensità che l'ha fatta. Esatto, esatto. Proviamo a verlo? Ecco, quello che dicevamo, le contrapposizioni sono che il vino bevuto è completamente diverso da quello che abbiamo, sì, avvertito, alfa è piacevolmente diverso. Certo, di solito quando naso e bocca si incontrano si dice il vino maturo, in realtà questo è un vino maturo, si può assolutamente bere ora, la curiosità è questa altra gamma di insettori ci sono. Certo, da gialla la frutta può diventare più verde, dalla papaya di prima possiamo passare all'umano, sì. Una nota salmastra tipica dei vini che sono fatti sull'acqua, quindi è un gioco divertente, un vino che è intrigante. Nota salmastra ha anche una nota molto particolare, che è raro, identificarla in un vino minerale. L'avete sentita, è una nota che mi ricorda, appunto, per quello che dicevi tu, le alghe. Le alghe, sì. L'alga, un'alga, c'è qualcosa di nobile, qualcosa che fa bene, qualcosa che riporta la sapidità, che si riporta anche alla salveglia. E' alla salveglia. Ragazzi, che cosa lo abbigliamo? Allora, lo abbigliamo con? Beh, lo abbigliamo con, allora, essendo un vino che ha anche una tendenza dolce, il freddissimo abbinamento, che è sempre una poteosi di gusto, sono i crostaggi, sono i crostaggi, e la ragosta è sempre la regina, però non freddissima, ma cosa, 10-12 gradi? Sì, 8-10 forse, perché se lo bevete in estate, poi per presto a scaldare. Lo lasciamo nel bicchiere. Sì, sì, sì. Bene. Quindi, come vedremo, i nostri partner, blogger, cosa proporranno, cosa ha, sulla Cucina dei Curiosi. Comunque, diciamo, vi invitiamo a sperimentare questo vino, perché è veramente unico. Molto interessante. Oh, e ricordatevi, assolutamente, di andare su MediInVino.com e di abbonarvi, diventando Sommeglie con solo i 19,90€ un mese. Quindi, amici di MediInVino, ciao a tutti! Ciao!